Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. La vita sentimentale di Benito Mussolini fu sicuramente una vita molto particolare, perché nonostante fosse sposato con Rachele, Rachele Mussolini, in realtà, e da questa ebbe i suoi figli, in realtà ebbe tutta una lunga serie di amanti, tra cui probabilmente la più famosa è Claretta Petacci, Clara Petacci che è la donna con cui venne catturato e fucilato dai partigiani. Bene, queste amanti, prima di Claretta Petacci, come vi dicevo furono numerose, ma furono anche molto diverse l'una dalle altre, avremmo donne del popolo, nobildonne, artiste, scrittrici, e addirittura, ed è questa la storia che voglio raccontarvi oggi, una donna veramente molto molto particolare, probabilmente tra tutte una delle più particolari, una di quelle che a prima vista sembra più lontana dal Mussolini che tutti noi conosciamo. Eppure, tra Leda Raffanelli, cioè la protagonista della storia di oggi, e Benito Mussolini, secondo quanto raccontava lei, raccontava lei e secondo quanto raccontavano le lettere che Mussolini gli aveva spedito, ci fu un lungo amore. Un amore che, secondo Leda Raffanelli, non era ricambiato, ma che non per questo si spense nel cuore del Duce. La nostra storia, ovviamente, non è però quella di Mussolini, quella la conoscete benissimo, ma è la storia di una donna molto molto anticonformista. Leda Raffanelli era nata nel 1880 a Pistoia, ma i genitori erano di Livorno, e quando era ancora molto piccola si era spostata insieme alla famiglia ad Alessandria d'Egitto, dove all'epoca c'era una piccola comunità italiana che qui viveva e commerciava tra l'Egitto e l'Italia. Leda Raffanelli, quando si trovò ad Alessandria d'Egitto, entrò in contatto con una serie di gruppi, tra cui un gruppo di anarchici italiani che qui vivevano, anche magari per evitare di incorrere in problemi nel proprio paese. Gruppo di anarchici italiani di cui iniziò a condividere le idee, iniziò a condividere gli incontri, e di cui molto presto divenne uno dei principali rappresentanti, soprattutto dal punto di vista artistico, quando dimostrò di essere molto abile a scrivere, che fossero racconti, che fossero poesie, che fossero invettive politiche, iniziando anche a farsi pubblicare. Fin da giovanissima dimostrò di essere molto anticonformista per l'epoca, anche dal punto di vista religioso. Pensate che a un certo punto decise di convertirsi all'Islam, in particolare alla corrente Sufi, ma non perché fosse realmente convinto dal punto di vista religioso dell'esistenza di Allah, di Maometto, della sua opposizione eventualmente al cristianesimo, ma proprio come una scelta volutamente anticonformista rispetto a quello che lei definiva il conformismo occidentale. Durante questo periodo iniziò anche appunto a frequentare vari ambienti politici e progressivamente abbandonò la corrente anarchica di cui faceva parte per spostarsi verso la corrente socialista. Ad un incontro proprio di socialisti europei tenutosi a Parigi, incontrò quindi Benito Mussolini, che all'epoca, come tutti voi sapete, non era fascista, ma era ancora parte del partito socialista. Beh, parte in realtà è dir poco, perché Mussolini era un esponente molto in vista del socialismo italiano all'epoca, innanzitutto per le sue capacità comunicative, per la sua decisione, per il suo movimentismo, la capacità di organizzare il partito socialista, era diventato anche direttore dell'Avanti, e pare che i due si fossero incontrati e a quanto pare fin dall'inizio piaciuti. Ora, su questo incontro ci sono due versioni. Da una parte c'è la versione della Raffanelli, che dice che in realtà ad innamorarsi fosse stato solo il futuro Duce, che aveva cercato in tutti i modi di far cedere la Raffanelli, che però non gli aveva mai concesso nulla, se non un singolo bacio, che Mussolini gli aveva rubato in un attimo di distrazione. Ma Mussolini, nonostante i rifiuti della Raffanelli, non si era dato per vinto e gli aveva scritto tutta una serie di lettere, chiedendo di incontrarlo e di poter stare insieme. C'è un'altra versione, che raccontano invece altri, che l'avrebbero appresa direttamente da Mussolini, secondo la quale invece i due furono effettivamente amanti. Un amore che venne interrotto, a causa di un fidanzato di lei diventato geloso, e ci mancherebbe altro, che poi sarebbe invece ripresa e si sarebbe interrotto solo lo scopo della Prima Guerra Mondiale, per motivi politici. Ora, le lettere pubblicate da Raffanelli sembrano dire altro, e in effetti Mussolini era famoso anche per le sue vanterie, quindi potrebbe aver inventato tutto, ma queste due versioni si trovano entrambe, e ovviamente gli unici che potevano saperne qualcosa si sono portati il loro segreto nella tomba. Ad ogni modo, quale che sia delle due versioni, i rapporti tra la Raffanelli e Mussolini si interruppero allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché Mussolini, come sapete, si spostò nel campo interventista, iniziò a spingere perché l'Italia entrasse a far parte, proprio entrasse, nella Prima Guerra Mondiale, schierandosi contro gli imperi centrali, mentre la Raffanelli, come altri socialisti, decise di rimanere nel campo pacifista. E quindi, tra i due, la spaccatura fu totale, con la Raffanelli, che iniziò ad attaccare anche pubblicamente Mussolini, e tutti coloro che come lui si erano schierati per l'interventismo, definendoli apertamente dei traditori, dicendo che avevano tradito l'ideale socialista che, in qualche modo, prevedeva che tutta l'umanità fosse composta da fratelli. Ad ogni modo, nel frattempo, la Raffanelli si era sposata, un matrimonio con un anarchico, che in realtà, Ugo Polli, che in realtà durerà pochissimo, i due torneranno in Italia, ma poi ben presto si separeranno, e nel corso della guerra, la Raffanelli riprenderà la sua attività di scrittrice, nonostante tutti i rischi che il fatto di essere pacifista con l'Italia in guerra poteva comportare, riprenderà la sua attività di scrittrice, fonderà addirittura una piccola casa editrice, e continuerà a pubblicare. Alla fine della guerra, la situazione non migliorerà, ci sarà ovviamente l'Italia, vincerà la guerra, ma con la vittoria mutilata scoppieranno tutta una serie di rivolte, la Raffanelli a questo punto lentamente inizierà a ritirarsi, almeno dalla vita politica attiva, ma continuerà a scrivere, e continuerà a farlo anche dopo che il suo ex amante, o amato, chissà, non lo sapremo mai, aveva preso il potere nel 1922. Ovviamente, quando Mussolini prese il potere nel 1922, i rapporti tra i due erano ormai completamente inesistenti. Per quanto ne sappiamo, Mussolini non pensava più alla Raffanelli, aveva ormai trovato altre amanti, e in qualche modo la Raffanelli diventò comunque un problema dal punto di vista politico, tanto che, come altri esponenti politici in opposizione al fascismo, anche lei fu a lungo controllata dai servizi segreti italiani. Servizi segreti italiani che però poterono constatare semplicemente che la donna ormai si era completamente allontanata dalla politica, e negli anni successivi, per cercare di sbarcare il Lunario, dopo che anche la casa editrice era stata chiusa a forza, fu costretta a praticare l'attività di chiromante. Perché in effetti, fino adesso abbiamo parlato della donna, dell'anarchia, del lato politico, ma c'è anche tutto un lato molto particolare, molto esoterico della Raffanelli, che in qualche modo era appassionatissima di chiromanzia, di lettura della mano, che lei diceva saper fare in maniera perfetta, era appassionata di esoterismo, era appassionata di animali, era una gattara, ok, questo sembra un po' un cliché, ma a quanto pare era così, divenne vegetariana, insomma, tutta una serie di scelte che in qualche modo la portavano in forte rottura con la società del tempo. Nonostante questo, a quanto pare, il suo impegno politico progressivamente si diradò. Scrisse ancora dei libri, tra cui probabilmente il più noto è Memorie di una chiromante, che in qualche modo era autobiografico, ma che ovviamente non vendette moltissimo, dato l'autrice, scrisse un libro politico, quello sì, a metà degli anni Trenta, che si chiamava Oasi, ed era dedicato ai coloro che combattevano in Libia contro l'occupazione italiana, era ovviamente un libro di denuncia contro le violenze perpetrate dall'esercito italiano contro i libici, libici, che anche solo per motivi religiosi, ricordatevi che le ribellioni libiche vennero organizzate da questa confraternita musulmana della Senussia, anche solo per motivi religiosi, lei in qualche modo sentiva vicino, vicini. Oasi sarà pubblicato sotto falso nome, anche in questo caso avrà una diffusione quasi nulla, in realtà la Raffanelli per tutti gli anni 20 e 30 sopravviverà veramente molto molto astento solo grazie all'aiuto di qualche amica e facendola chiromante e insegnando l'arabo a coloro che volevano impararlo. Nel 1946 caduto Mussolini, morto Mussolini ucciso dai partigiani la Raffanelli che peraltro al momento della morte di Mussolini pare si fosse rarregrata e avesse scritto di suo pugno una nota in cui sostanzialmente esprimeva felicità per quello che avevano fatto i partigiani la Raffanelli decise di pubblicare le lettere che Mussolini gli aveva scritto e nel 1946 uscì un volume che conteneva proprio le 40 lettere che Mussolini gli aveva scritto quelle che lei aveva selezionato con un commento in qualche modo raccontando questa storia il libro sarà un parziale successo sicuramente più dei suoi precedenti ma ancora una volta non la rese ricca anche perché pare che la Raffanelli fosse molto portata a concedere quel po' di denaro che aveva a tutti coloro che ne facevano richiesta che magari dal suo punto di vista ne avevano più bisogno di lei negli anni successivi continuò a vivere in semi povertà continuando a fare la chiromante continuando a dare lezioni di arabo per riuscire a sopravvivere ancora una volta spesso rifiutando l'aiuto economico da parte delle sue amiche a 91 anni 91 anni nel 1971 fa quasi strano per una donna che aveva avuto una vita così particolare a 91 anni si spense e con lei si spense una donna sicuramente molto affascinante che al netto del rapporto con Mussolini che però in qualche modo crea ancora più una spaccatura con l'età in cui viveva al netto di quello fu sicuramente una donna molto anticonformista molto particolare e potremmo andare a inserirla quasi in quei ritratti di donne particolari ritratti di donne anticonformiste a cui abbiamo dedicato qualche pillola qualche mese fa e di fatti e di fatti questa storia esattamente come quelle di allora è stata scritta da Ilaria che ringrazio tantissimo perché come sempre sa andare a trovare delle storie fantastiche consigliarle e come in questo caso scriverle e permetterci di fare questa peristoria a cosa brindiamo oggi beh chissà se la nostra Raffanelli questo non l'ho trovato l'ho cercato ma non l'ho trovato da nessuna parte essendo musulmana non amava bere il vino o comunque non lo beveva non lo sappiamo secondo me dal punto di vista religioso il suo legame con l'Islam non era così forte e dopo tutto essendo di origine toscana secondo me un goccio di vino ogni tanto se lo concedeva quindi alla sua salute un bel bicchiere di Chianti mi sembra un buon compromesso alla salute di Reda Raffanelli e a presto